Tutto è pronto per un nuovo capitolo della storia del Casarano, questa volta a scrivere pagine importanti potrebbe essere il neotecnico rossazzurro Nevi Orlandi, il quale ha ereditato il lavoro fatto fin qui da Vincenzo Feola. Tanta la curiosità che ha avvolto ed avvolge tutt'oggi l'ambiente dei Salentini con gli addetti ai lavori che tentano di capire quale sarà l'impronta tattica del nuovo mister. Mancano solo i due giorni dal primo impegno casalingo contro il Sorrento, sfida dalle grandi insidie sotto il punto di vista storico è utile per dare il là alla sua nuova avventura. È tempo dunque di ipotizzare una probabile formazione con un solo reparto che non dovrebbe subire variazioni, ovvero la difesa che sarà composta da quattro effettivi. Per il resto tanti gli interpreti e gli schieramenti nelle restanti zone del campo sperimentati con la possibilità che anche a centrocampo ci si presenti con quattro interpreti. Allo stesso tempo Orlandi è ricordato dei tanti come un patito del modulo ad albero di Natale, disposizione che dunque non si discosterebbe tanto dall'impronta tattica di inizio stagione targata a Feola. Passiamo dunque ai protagonisti, ipotizzando un 4-3-2-1 e che potrebbe presentare diverse sorprese, dato che Orlandi può contare anche sul Negro, Sansone e Ficara, tutti e tre precedentemente acciaccati e ad oggi recuperati. Pali difesi da Guido, mentre al centro della difesa sono favoriti Longhi e Figliomeni, con sugli esterni gli under Quaccuarelli e Pagliai. A centrocampo cabina di Legia affidata al solito Bruno, mentre al suo fianco dovrebbero esserci Giacomarro e Argento. Alle spalle di uno tra Santoro e Rodriguez potrebbero vedersi Mincic e Sansone. Se sarà questo, il nuovo caserano di Orlandi sarà solo il campo a dircelo, ma senza dubbio le speranze e i sogni sono tanti.